Grazie Francesco, c'è un motivo per essere orgogliosi di essere romani, il PIL nella nostra città sta crescendo nel 2014 dell'1,4% contro lo 0,4% nazionale e nel 2015 ancora di più, l'occupazione cresce del 3% a livello nazionale dello 0,8%, Lazio e Roma sono i primi in Italia per crescita del PIL e per crescita dell'occupazione, parlo degli ultimi dati Istat, che differenza tra questi dati e la percezione di Roma che c'è in Italia e nel mondo? Una divaricazione incredibile, si è dimenticato in questa divaricazione che Roma non è solo il Campidoglio o la Pisana o Palazzo Valentini, Roma è una grande città metropolitana di 3 milioni e mezzo di abitanti che è in grado di produrre società civile, industria, commerci, servizi, turismo e di essere in questo momento la città che cresce di più in Italia. Ma intanto nella percezione e anche nella comunicazione politica dell'ultima fase Roma invece sul Campidoglio si sono scaricate tutte le tensioni, anche quelle che non c'entravano nulla col Campidoglio. Ad esempio c'è la corruzione in Anas e Roma, l'elicottero di Casa Monica, io voglio ringraziare Franco Gabrielli perché la gestione del prefetto Gabrielli della Vicenda, l'elicottero dei Casamoni che è stata molto corretta istituzionalmente, il Comune non c'entrava nulla. L'ho anche detto nei tre mesi che ho affiancato Ignazio Marino, spesso gli ho detto questo, guarda che si è realizzata una contingenza in cui stiamo facendo il Campidoglio come ente e tu come sindaco, siamo diventati una sorta di parafulmine su cui si scatenano tutta una serie di fulmini antiromani che hanno origini molto diverse da ciò che accade nel Campidoglio. Detto questo però è vero che l'inchiesta Mondo di Mezzo ha molto influito su questa percezione. Un anno fa, proprio oggi, il 28 novembre di un anno fa, il mio partito, il Partito Democratico, al Teatro Quirino, proprio qua vicino, ha organizzato una conferenza programmatica in cui il giorno dopo, il 29, domani fa un anno, invitammo Giuseppe Pignatone e Giuseppe Pignatone in quell'occasione, cioè a una conferenza del Partito Democratico, espresse una sorta di visione programmatica generale di scenario di fatto anticipando quello che da lì a poco a giorni sarebbe successo. Io penso che nel 2013 il centrosinistra è tornato al governo impreparato, non avevamo capito, ecco, chi dice che era Marino impreparato, noi eravamo tutti impreparati, nessuno di noi aveva capito il livello del degrado a cui il Campidoglio era stato portato dopo la fase della gestione del mando, avevamo sottovalutato il degrado amministrativo, avevamo sottovalutato che anche nei gruppi politici, nei partiti, nei gruppi consigliari, quindi anche nella parte politica, c'erano state infiltrazioni che non si possono sottovalutare, saranno anche, come dire, come giustamente ha detto Gabrielli, marginali e non totali, ma non sottovalutabili come impatto politico. Il mio partito, il PD, ha affrontato questo tema con grande durezza, con un commissariamento straordinario che dura ancora oggi. Di fatto siamo in una fase in cui la credibilità delle proposte romane e la fiducia che dall'esterno si dà nei confronti delle istituzioni locali romane è al minimo storico, questo è il punto politico. Come recuperarla questa fiducia, come recuperare questa credibilità? Certamente enfatizzando e lavorando il più possibile per consolidare questi segnali consistenti di ripresa economica e occupazionale. E gestendo nel migliore dei modi una fase che da questo punto di vista ha delle positività. Per il giubileo, dopo i 50 milioni, voglio ricordarlo, che abbiamo potuto programmare solo a partire dal 5 agosto, con delibera di giunta comunale costruita fra il 5 e il 13 agosto, quindi poi adesso i cantieri non sono ancora chiusi, ma nelle condizioni in cui, condizioni che nessuno ha voluto, è un giubileo straordinario, gli interventi sono anche facili, però per il giubileo arrivano dopo quei 50 altri 150 milioni, sono in ballo una cinquantina di milioni dei programmi per la mobilità fondi strutturali della Regione Lazio, stanno andando avanti delle gare nazionali per partecipare a progetti sulle periferie, 200 milioni un bando già emanato e 500 milioni un nuovo bando che verrà fuori da questa piccola rimodulazione della legge di stabilità che riduce lo sgravio Ires per le imprese e ricava 500 per la sicurezza e 500 per le periferie, se il Campidoglio si attrezza bene anche in questa fase commissariale, oltre ai 150 più 50 200 milioni del giubileo si può puntare a portare a questa città e soprattutto le sue periferie un flusso finanziario di almeno altri 100 milioni di euro. Occorre, e questo è un messaggio molto importante da dare a chi gestisce oggi la macchina capitolina e a chi lo deve affiancare, Regione, coordinatore del giubileo, governo nazionale, occorre attrezzare la macchina, occorre usare i municipi, le risorse potenzialmente disponibili potrebbero dar vita ad almeno un centinaio di interventi di ricucitura urbanistica nelle aree periferiche della città e penso soprattutto alle periferie oltre il grande raccordo anulare dove ci sono da fare ricuciture viarie, ricuciture urbanistiche, utilizzo di immobili dismessi, housing sociale, ci sono due delibere pronte di housing sociale con finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, Santa Palomba e Muratella che attivano da sole 178 milioni di euro di investimenti privati, cioè di Cassa Depositi e Prestiti. C'è da utilizzare i soldi del giubileo per migliorare in modo permanente i servizi pubblici e locali della città, noi dobbiamo usare i soldi del giubileo al netto ovviamente delle spese di gestione per comprare dei beni pubblici che restano poi alla città anche dopo il giubileo, dobbiamo comprare autobus, per troppi anni non se ne è comprati, dobbiamo comprare treni della metropolitana, treni delle ferrovie, dobbiamo sistemare l'illuminazione pubblica della città, dobbiamo sistemare Ama, poco fa qualcuno ha detto che Ama, lo diceva Gabrielli, molto informato su Roma e anche sui suoi municipi, non voglio indagare su questo ma è molto informato, Ama ha difficoltà di conferimento, ama anche difficoltà di logistica interna della città, uno dei motivi per cui ama una scarsa produttività è che ci sono poche isole ecologiche interne alla città, dobbiamo fare 6, 7, 10 nuove isole ecologiche per migliorare la logistica di Ama dentro la città, dobbiamo sicuramente chiedere qualche norma speciale, in questo sforzo che il governo ha fatto non solo per Roma, per le periferie italiane e poi anche per Roma per il giubileo, però il governo si è dimenticato di fare qualche norma ordinamentale, io spero che il prefetto tronca la chieda, comunque il Partito Democratico le sta chiedendo con appositi emendamenti già depositati alla legge di stabilità, perché Roma è diversa dagli altri comuni e in questo recupero di credibilità e di fiducia rispetto all'esterno noi dobbiamo contemporaneamente ottenere finalmente il riconoscimento di un elemento di specialità che ci può permettere, ci potrà permettere di gestire al meglio questa fase e poi il secondo elemento che cito soltanto come titolo, perché già altri si sono occupati, molti dicono in questa campagna elettorale non bisogna promettere molto, bisogna promettere poco, io credo che bisogna, come dire, nessuno può eludere nessuno dei grandi temi di policy della città, quindi trasporto pubblico, la pulizia, che fare delle società del comune, hanno detto Barrera, come reindustrializzare, organizzare la macchina amministrativa, il lavoro, l'occupazione, lo diceva Francesco, ma credo che non possa neanche essere elusa la necessità di dare una riforma alla governance delle istituzioni locali di Roma che venga pienamente incontro a questo elemento della specialità, lo hanno detto prima di me, non mi dilungo, città metropolitane, municipi, che condizioni ho finito, in quali condizioni noi romani, noi romane riusciremo a recuperare credibilità per le nostre proposte, riusciremo a ottenere più fiducia dal resto d'Italia e dal resto d'Europa, sicuramente dovremmo essere un po' meno litigiosi, dovremmo costruire su alcuni elementi un perimetro generale di consenso sul funzionamento di Roma, quindi bene le forze civiche, bene l'associazionismo, più le forze civiche, l'associazionismo e il volontariato susciteranno proposte, più permetteranno ai partiti che escono con le osse un po' rotte dopo due consigliature che sono andate male, soprattutto la prima più che la seconda, ma comunque due consigliature, inevitabilmente però i partiti politici dovranno prendersi le loro responsabilità e proporre credibilmente con fiducia delle forme di specialità per il governo di Roma perché, come si è detto, nessun superpippo, nessun guardiano della galassia è mandato in Campidoglio così come potrà risolvere strutturalmente i problemi della città.